terzo ultimo giorno delle vele d'epoca d'imperia finalmente ci siamo riusciti siamo con ariella e gigi ariella cattai e gigi rolandi una coppia di armatori di una barca molto bella e anche vincente darei prima la parola ad ariella perché ci deve anche raccontare qualcosa sul nome e sulla storia della barca giusto grazie ciao a tutti siamo bellissimo grazie che ci avete fatto questo regalo di regattario imperio una cosa meravigliosa la nostra barca e crivizza o crivizza secondo della voi dire all'italiana o alla istriana crivizza una bellissima baia di lussino e questa barca è un po e del 66 ed è stata una fatto con mauro pelaschiere un paio d'anni fa il giro d'italia per promuovere educare soprattutto i giovani al rispetto del mare al non uso della plastica quindi è una barca super ecologica e che noi manteniamo tale infatti la vedete tutta di legno nessuna cosa elettronica e siamo fierissimi di lei dell'originalità ma è una barca di famiglia non di famiglia non è una barca di famiglia anche se le nostre famiglie hanno lunghe tradizioni di marinare lunghe tradizioni di barche e questa barca è nata perché recentemente dopo molti anni trascorsi all'estero ariella ed io abbiamo deciso di trasferirci a viareggio viareggio è un porto italiano con un sacco di barca storiche e quindi abbiamo deciso perché non una barca storica arrivando a viareggio avevamo visto in banchina il kerchira 2 con la quale io nel lontano 1969 all'età di 16 anni ho fatto la one ton cup con tino straulino e con mio papà e quindi interrompiamo il tuo papà era carlo rolandi che è uno storico presidente della federazione della vela o il plurio olimpionico insomma è un personaggio non a livello di tino però io tino lo chiamo zio tino straulino e quindi abbiamo visto il kerchira abbiamo provato a comprarlo non è stato possibile nel frattempo mauro per la schia che amico di infanzia di ariella sapeva che volevamo cercare una barca ha detto ma perché non prendete il crivizza che sta già lì a bocca di magra e l'abbiamo visto ci è piaciuto subito l'abbiamo comprato a terra senza neanche provarlo a scatola chiusa praticamente l'abbiamo portato a viareggio a novembre e l'abbiamo provato per la prima volta con vento aprile e a marzo abbiamo fatto la prima regata abbiamo scoperto che camminava bene quindi di chi è il progetto il progetto è alan bucanan è un progetto del 56 si americano ed è lo stesso lo stesso progettista che ha progettato nembo che un'altra barca vincente sull'adriatico e queste due barche crivizza e nembo sono rimando di demanzini sono rimaste per molto tempo alle otto club adriaco vicine e poi è solo recentemente dopo il giro d'italia crivizza è venuta in tirreno una domanda a riella come così diciamo armatrice mi racconti un po anche dell'equipaggio mi dicevi prima che siete un gruppo di amici quasi tutti i triestini siamo quasi tutti i triestini siamo tutti amici e abbiamo fatto regate molto tempo molto tempo assieme con dodì eravamo sui fly uno negli anni 70 quindi ci conosciamo da tempo ma poi anche riusciamo a tirare su gente dalla banchina ad esempio aldo che è stato con noi alle regate di porto santo stefano che abbiamo vinto e aldo è venuto così un giorno in banchina ci ha detto avete bisogno di due mani abbiamo detto che si caricato a bordo quindi non siamo un equipaggio che si prova che sta che si allena siamo un equipaggio di amici però siamo bravi credo di sì ecco sì questa è in realtà una cosa che abbiamo notato molto nel mondo delle delle barche classiche no ci sono spesso gli equipaggi di amici e tutti danno questa idea di grande divertimento di godere il tempo passato in mare mi sembra di capire che anche per voi è così sicuramente anche per noi così infatti guarda ti racconto una chicca quando abbiamo comperato crivizza mauro ci ha raccontato guarda è bellissima bellissima meravigliosa va come un tiro e laga una ghiacciaia che il vino sta freschissimo per giorni da da mauro non ci aspettavamo nulla di meno quindi c'è questo spirito di allegria ma comunque sempre sportivi e le regate si vanno seriamente però ci si diverte quindi dicevate che avete già fatto delle delle regate questa stagione che sono andate bene qua aspettiamo sempre la conferma delle classifiche ma mi sembra no questo non so però il vento qui era era potente quest'anno abbiamo fatto 14 regate quest'anno abbiamo fatto in totale abbiamo fatto 14 regate divise nel trofeo ammiraglio francese il il trofeo delle grazie poi siamo stati al porto santo stefano a napoli a gaeta e in questo gruppo di cose abbiamo fatto 14 prove ne abbiamo vinte sette sei volte siamo arrivati secondi una volta terzi e qui non siamo andati allo stesso livello nel senso che il le barche qui sono state sono state divise divise da mario 40 molto bene in tante categorie che però in questa suddivisione abbiamo perso la competizione diretta quindi abbiamo vinto la nostra categoria ma non siamo doveva succedere per forza in qualche maniera e sia il primo giorno sia il secondo giorno se io guardo i tempi rispetto a barche con le quali dovremmo competere sarebbero saremmo arrivati dietro oggi che la condizione erano stabili li abbiamo lasciati tutti dietro non so ancora il risultato ma sono sicuro che se avessimo fatto una classifica delle barche classiche dovremmo essere veramente in testa un'ultima cosa è stata una lunga stagione avete ottenuto tanti bei risultati si chiude qui o avete in programma dopo le vele d'epoca altre cose assolutamente non si chiude qui andiamo adesso la settimana prossima no a canne purtroppo lui deve andare a lavorare a canne quindi non posso questo lavoro però è terribile è terribile essere segretario lavorare con il cime è terribile ma però io dovrò seguirlo e farò shopping e invece la settimana prossima andiamo alla spezia poi abbiamo poi andiamo a fare la barcolana perché comunque tutto l'equipaggio non con il crivice andiamo a fare la barcolana e poi chiudiamo con le vele storiche di viareggio e poi la porteremo la porteremo dal dottore e le faremo un lifting perché una vecchia signora ha bisogno di qualche ritocchino qualche ritocchino ogni tanto ma mi sembra che comunque sta bene stia bene stia bene la coperta necessita un po di ritocchi insomma cambiamo la falchetta ripariamo la coperta poi una volta che è aperta vediamo se bisogna ritoccare però trovo che le barche d'epoca siano belle anche per questo perché c'è sempre qualche lavoretto che comunque no l'equipaggio fa gli armatori partecipano io ho dato il coppale prima di venire a imperia ho partecipato in primis poi a viareggio devo dire che è un posto che per la cantieristica eccezionale sia perché ci sono manodopera capace di fare qualsiasi cosa e poi in particolare ci sta il marco del carlo che è un cantiere molto molto serio per barche di questo tipo che ha fatto molti restauri quindi il primo novembre crivizza sale sullo scalo del carlo e poi vediamo quando apriamo vediamo cosa c'è nascosto sotto nei punti che non abbiamo ancora visto e allora noi vi diamo appuntamento alle prossime e all'anno prossimo con la barca completamente con il lifting grazie a ariela e gigi grazie mille ariela